Ciao a tutti, siamo qua con Lib Lab in piazza Marconi e con Paolo Stella della cooperativa Cascina del Sole. Paolo è il coordinatore di tutte le bancarelle che ci sono qua fuori dal castello Visconteo, dove appunto sono esposti e sono in vendita i prodotti del parco. La cooperativa del Sole è nata nel 1982, si trova a Corbetta e si occupa di inserimento lavorativo di persone con svantaggio sociale. Operiamo in due tipi di settore, il settore della manutenzione del verde e nel settore agricolo. Abbiamo radunato le 22 aziende agricole che oggi espongono e abbiamo chiesto di darci il loro prodotto preferito, il loro prodotto più identificativo e l'Ele poi ha usato la sfida di provare a cucinare con i prodotti che le aziende hanno fornito. Oggi costituire una piattaforma che è un po' il nostro sogno e dal punto di vista dell'investimento importante abbiamo pensato di andare a casa della gente a vendere, abbiamo ricostituito lo che sono i mercati rionali. La selezione che noi facciamo è prima quella di lavorare con aziende del territorio, perché se noi riusciamo a rivalutare l'agricoltura locale sicuramente riusciamo anche a rivalutare quello che è l'impatto ambientale dell'agricoltura stessa. La scelta non è prima il biologico, è prima il locale e poi dopo tanto meglio se è biologico. Gli studi che stiamo facendo, li stiamo conducendo con la facoltà di Agraria e il dottor Spigarolo che si occupa di ristorazione collettiva, stiamo cercando di capire di andare a intercettare questo tipo di mercato. Il problema qual è? Che bisogna non tanto, la volontà c'è sicuramente sia degli amministratori, di comunque anche nelle scuole arrivare con i prodotti della filiera corta. Il problema è quello di costituire dei bandi che consentono questo. Oggi i bandi non sono blindati sulla filiera corta e quindi non è possibile provisionarsi in questo modo. La scommessa qual è? Fare dei nuovi bandi, dei bandi che favoriscono la filiera corta, che favoriscono l'agricoltura locale e allora a quel punto questo potrà essere fatto.